Al comando della Capitaneria di Porto di Pesaro sono stati premiati gli studenti del Liceo Marconi, vincitori del concorso nazionale intitolato La Cittadinanza del Mare, ovvero un progetto che vede di sviluppare le conoscenze per la tutela dell'ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare. Il tema scelto per l'anno scolastico corrente è quello dei cambiamenti climatici e la sostenibilità. A partecipare sono stati i ragazzi dei corsi complementari Riscopriamo la Natura e Futuro Vegetale con il loro video Il Marconi incontra il mare a Baia Flaminia guidati dagli insegnanti Bedosti e Gaspari. L'iniziativa è organizzata dal Ministero dell'Istruzione insieme al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Abbiamo pensato di direzionare le idee sulla nostra Baia Flaminia perché si sposavano bene i concetti di migrazione delle tartarughe che appunto di recente hanno l'edificato a Pesaro come luogo per la prima volta più a nord e poi dando uno sguardo anche a cambiamenti climatici del passato abbiamo la Falesia che rappresenta un giacimento di fossili ricchissimo e in particolar modo testimonia il dissecamento del Mar Mediterraneo avvenuto 6 milioni di anni fa. Inoltre quando abbiamo due anni fa inaugurato la sede navale della distaccata del nostro liceo. proprio a Baia Flaminia anche in quell'occasione è nato diciamo uno sposalizio tra virgolette di aiuto con la Capitaneria di Porto. Proprio quest'anno il nostro liceo è partecipato a un progetto Med for Science per cui è andata a raccogliere sempre presso le acque di Baia Flaminia le noci di mare, questi organismi marini che sembrano inquinare perché provocano un cambiamento ecologico importante e dannoso ma se correttamente utilizzato e con l'aiuto delle biotecnologie e laboratori particolari si possono sfruttare per creare una plastica biodegradabile che soprattutto è bio perché deriva dal bio, dall'organismo vivente e in questo i ragazzi si sono ovviamente appassionati e quindi diciamo che in questa piccola area di Pesaro c'era una comunione di tanti aspetti che abbiamo voluto toccare. A complimentarsi con i ragazzi la comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro, il capitano di fregata Barbara Magro, l'amministrazione comunale pesarese, il preside Riccardo Rossini e il direttore marittimo delle Marche Donato De Carolis. È stato bandito ormai, questo è già il secondo anno, il concorso per la cittadinanza del mare e sono stati premiati quelle scuole di ogni ordine e grado che hanno nei loro lavori, lavori video o anche scritti, hanno evidenziato di aver sviluppato la maggior consapevolezza in quelle che sono le problematiche a tutela dell'ambiente marino e della sostenibilità ambientale.